primo vlog signori primo vlog e sono a soverato come potete vedere qui dietro di me c'è il mare e vi sta proprio bene no dai scherzavo no niente vi sto pulendo dalla sabbia perché sono tornato dalla spiaggia e mi ero dimenticato di essere portato addosso tonnellate e tonnellate di sabbia il che non è una buona cosa insomma ci sono fottuti la camera di lusella per fottuti intendo io e marco e niente spero che questo video vi piacerà soprattutto per farvi ingelosire perché io sono qui voi siete lì ti è ti è no dai niente sto parlando da solo sul balcone con sto parlando da solo sul balcone con un buon handicappato spero che la gente non mi dirà oh ma quello è mongolo guardate c'è un mongolo sul balcone e niente sto aspettando i miei nonni che stanno tornando a casa rientro per il pranzo sai perché perché il pranzo è una roba considerata sacra per loro almeno per loro eh io li sto aspettando non c'avevo voglia di stare spiaggia sono tornato prima però vabbè niente già un minuto e venticinque secondi direi che posso anche stoppare sta merda e noi se tu vedete cosa sto facendo perché altrimenti pensate questo qui handicappato cosa cazzo sta facendo almeno ora lo sapete e niente noi ci vediamo ad un prossimo video sempre qui a Soverato ciao ciao